FANTASY Vabbè, ve lo vediamo dopo Ah bello delle pillole Ah questi sono i colleghi Ah li hanno fermati per un controllo Non lo sapevamo, c'è il blocco Ah c'è il blocco, capito? Degli scarichi Delle macchine non catalizzate Che loro sono i due colleghi Sono i due colleghi che steccano come dice Roma Si dividono le spese, vanno al lavoro insieme Non ce l'abbiamo il libretto, faccio la multa Quello che è No, ha detto che c'è il sequestro della macchina Vuoi il libretto Ferdinando? Ferdinando ma che fa la pigliare? Mi è faticato stammatina Ammi il libretto Ferdinando! Non ce l'ho Un attimo su eh Ma c'è problema, è rubata Ma che è rubata? E allora ammi il libretto Ferdinando Un attimo su Lo prendo io Ma ce l'ha il libretto Perché non glielo voleva dare? Non capisco, non capisco Ma è strano forte No, 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 è a benzina No, non è a gas, è a benzina A gas, a gas Sì a gas E a gas può girare Come a gas? Perché lui l'ha fatto vedere subito Ah, vabbè Possiamo andare? Grazie Tutto a posto allora Tutto a posto Aspetta un momento Aspetta un momento Andiamo che si fa tardi GPL GPL Dal 2005 Sono cinque anni Eh sì La macchina a gas da cinque anni Qui si rimpianta tempo fa Mi sei dimenticato di dirte Però di prendere i soldi da me non ti sei mai dimenticato Ma questo è i soldi per dividere le spese della macchina Si fa pagare come forse a benzina A benzina A benzina Ma questa con 25 euro fa 400 KB Che divide l'altro? Niente che? 400 KB 25 euro Ma di fatto non sa che i soldi con la me? Chissà quanti soldi ti sei fatto? Ma boffa in realtà non ci pensiamo C'ho fatto che 2.600 euro No 2.600 euro Lo sai pure? Ti fatti pure il conto? Ti fatti il calcio Si Ma poi scusero Poi l'impianto l'ho pagato io No l'ho pagato io Ferdinando l'impianto Anzi Ti ho messo un lotto di soldi più Ma poi andiamo e non fa niente Non c'è non stai Ma si Fatti Non avveleniamo l'ambiente No l'ambiente no E chi gli pega? Io me l'ho assati Un chanur C'è grande Va bene Diamo un po' di musica La presa con filosofia Pronto? Ah si Questi sono quelli che fanno il lavoro insieme E dividono le spese? Ferdinando si è un amico mio A chi ti dà del tizio? Perché? Chi è? Si Parla Nooo E' una persona a posto E' una persona mia Tranquillo Non fai di queste cose Il telefono con una persona amica Che parla male di lui Ma come ti permette? Nooo Ahia Stai parlando male di lui Giustamente è quello che si preoccupa Ma come ti permette? Ma chi è? No Ok Si Si Davvero E sta dicendo cose terribili Che schifo Come? Che schifo Adesso lo attacca anche lui Indifendibile Indifendibile No 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 So solo Si si Fa proprio confidare tutto Si La mamma dei cretini è sempre in città Nooo Gli da addosso Ciao Un bacio Ciao ciao Saluto Saluto a Gloria Pure Hai detto un'amica in cu